Allora, si prendono dei fili, veda qua, si prendono dei fili così, e poi vedo qua, vediamo dall'inizio, allora, e si sfilacciano questi fili, con l'ago, si fanno come tanti fili, si, veda qua, e poi si fa un nodo, si torciglia così, veda, certo, si attorciglia, si, si fa il nodo, un nodo, poi una volta, e della partenza, si, una volta che facciamo un nodo, mettiamo dentro, qua, l'ago, perché l'ago è principale, perché ogni tanto, poi, questo nodo, viene ricoperto, adesso vi faccio vedere.